Nella scatola troverai la Vorafone Station 2, la Vorafone Internet Key, la SIM, ti ricordiamo che se sei un cliente azienda riceverai la SIM direttamente dal tuo consulente commerciale, l'alimentatore per il collegamento elettrico, un cavo per la connessione del computer alla Vorafone Station 2 con fascetta gialla, un cavo per la connessione della Vorafone Station alla presa telefonica con fascetta rossa, un cavo per la connessione del telefono fisso alla Vorafone Station con fascetta grigia, un filtro ADSL, un adattatore tripolare e la guida rapida per l'installazione della Vorafone Station 2. Accendila utilizzando il tasto ON che trovi sul retro. Ora segui le istruzioni che appariranno direttamente sullo schermo. Collega il PC acceso attraverso il cavo con fascetta gialla in una delle quattro porte gialle della Vorafone Station. Apri il browser e in automatico comparirà la pagina di installazione. Nel caso in cui non compaia, sarà sufficiente scrivere come indirizzo installazione.guidata. Ora scegli dove vuoi installare la tua Vorafone Station, casa o ufficio, e segui le istruzioni che appariranno a video. Scoprirai in questo modo come è semplice inserire la SIM all'interno della Vorafone Internet Key e la Vorafone Internet Key all'interno della Vorafone Station. Come collegare la Vorafone Station alla presa telefonica utilizzando il cavo ADSL con fascetta rossa. Infine, come collegare tutti i telefoni.